Vorrei fare un augurio per Pesach a voi studenti del liceo, alle vostre famiglie e ovviamente a tutti gli insegnanti e vorrei farlo con una piccola riflessione sul senso di Pesach, una tra le tante possibilità di interpretazione. La parola Pesach come sappiamo significa saltare, lo diremo questa sera, quando alla fine di Maggid, alla fine della Gadà, diremo le tre parole che secondo rabbin Gamliel sono le parole chiave che si devono capire e comprendere e senza le quali non si esce dall'obbligo. Pesach ricorda il salto, il fatto che Akkadosh Baruchù abbia saltato, abbia oltrepassato le case degli ebrei nella notte in cui andava a liberare poi gli ebrei dalla schiavitù. Vorrei soffermarmi sull'idea del salto. Che cosa significa saltare? Saltare significa partire da un punto e arrivare in un altro punto saltando in effetti ciò che c'è in mezzo. C'è un momento quando si salta in qui in un certo senso si è sospesi perché non si è più da dove si è partiti e non si è ancora dove si deve arrivare. Allora penso che il salto sia una bella metafora della discontinuità. Noi pensiamo che l'esistenza collettiva e individuale sia un continuum di momenti uno dopo l'altro e invece ogni tanto bisogna sperimentare la discontinuità, ovvero trovarsi in una specie di sospensione che ci porterà da qualche altra parte. La discontinuità può essere molto complicata, può essere dolorosa, tutte le discontinuità lo possono essere, però dobbiamo immaginarle invece come una sorta di sospensione che ci apre a una libertà diversa. È quello che noi facciamo celebrando Pesach tutto sommato. Essere capaci di resilientemente vivere all'ospensione per arrivare dove siamo diretti, anche se non ci è sempre chiaro dove stiamo andando. Allora ecco io vorrei augurarvi in questo Pesach così particolare quello di... il mio auguri è veramente quello di prendere le occasioni di discontinuità. Quella che stiamo vivendo è una di queste e mi sembra che la stiate vivendo almeno dal punto di vista volastico in maniera egregia. Sono molto contento di come gli studenti hanno reagito e anche di come gli insegnanti hanno contribuito alla loro reazione. E qui vorrei che questo momento in un certo senso di sospensione fosse un'apertura possibile per una libertà migliore, per una dimensione un po' diversa in cui alle spalle abbiamo comunque il nostro passato che non si cancella, ma riusciamo in un certo momento a saltare qualche cosa per aprirci qualcosa di nuovo. È un po' questo il senso di Pesach e mi piace concludere questa riflessione con una citazione di un grande filosofo del novecento, Walter Benjamin, che diceva che la concezione del tempo degli ebrei è quella di immaginare che ogni momento potrebbe essere la porta dalla quale entra il Messia. Ebbene Pesach è un po' l'anticipazione di quella che sarà la redenzione finale. I maestri ci dicono che a Pesach gli ebrei sono stati liberati all'Egitto e a Pesach saranno redenti definitivamente. La redenzione non è solamente una questione del popolo ebraico ma di tutta l'umanità. Ogni momento, che è un momento di discontinuità, può essere la porta attraverso la quale questo grande cambiamento può avvenire. Allora penso che dobbiamo immaginare che anche se non arriveremo a questo grande cambiamento la sospensione che siamo in vento ci possa portare ad aprire una porta che dà sul nuovo. Veramente Chag Sameach a tutti.